Preghiamo per la piccola Maria, pensiamo a lei ogni istante, si limita a poche parole la suora che si trova all'ingresso del campus San Giuseppe, dove oggi si chiude l'attività del Grest 2022. I bambini dicono che Maria li guarda dal cielo, spiega la suola che assieme agli animatori aveva accompagnato i bambini al lago di Revine. Ed è così che i piccoli riescono ad affrontare un dolore grande, sconosciuto, così riescono a salutare la loro amichetta scomparsa all'improvviso. Il portone del campus si apre leggermente per far entrare le famiglie dei bimbi, poi si chiude come a voler proteggere questi piccoli che hanno già vissuto un momento tanto drammatico. Intanto rispettiamo il silenzio che le suore hanno chiesto rispetto a questa vicenda, anche perché la magistratura sta facendo il suo corso. Abbiamo pregato soprattutto per Maria, per la sua famiglia, per i ragazzi del Grest e per i responsabili. È il giorno del silenzio, si cercano parole difficili da trovare. Alla preghiera per Maria era presente anche la mamma, le guance solcate dalle lacrime. Siamo in contatto con la famiglia attraverso padre Iuri. Oggi abbiamo preferito che ci fosse padre Iuri, che è il cappellano degli ucraini qui da noi, con Egliano, Vittorio Veneto, Belluno. Abbiamo affidato a lui un cartellone con i pensieri dei ragazzi per Maria da consegnare alla famiglia. Tre parole che Maria, dice Don Andrea, ci restituisce. Grazie per l'amicizia che è nata, per come è stata accompagnata anche al Grest e per tutto quello che di bello ha saputo vivere qui da noi. Forza, questa forza della vita che supera la morte, quindi un coraggio che ci viene chiesto di vivere e di saper far nostro. E l'ultima parola che abbiamo voluto affidare è quella della gioia. La gioia che è un po' la richiesta che Maria ci fa di vivere dentro le nostre gioie il ricordo della sua presenza. Ed è stata aperta dalla Caritas di Vittorio Veneto una raccolta fondi per chi vuole sostenere la famiglia di Maria. La bimba sarà sepolta nel suo paese, quel paese da dove era scappata a causa della guerra. Una grande sofferenza, dice Don Alessio. È un momento davvero difficile e si è tutti dispiaciuti per quanto è accaduto. La fede un po' aiuta e abbiamo fiducia comunque anche che il percorso dal punto di vista del cammino della giustizia possa fare chiarezza su tutto quello che è accaduto.